Buongiorno ai soci del Camiliano, questa è la guida che abbiamo preparato per spiegarvi come effettuare il rinnovo online, che è una funzionalità che permetterà di rinnovare per noi e per i soci del nostro nucleo familiare. Importante, bisogna avere le credenziali di accesso al profilo online, questo è l'unico prerequisito. Se non le avete, seguite la guida dedicata che abbiamo preparato proprio per lo scopo. Il pagamento poi potrà essere effettuato attraverso Paypal oppure con carta di credito, ma sempre attraverso il pulsante Paypal, poi lo vedremo nel dettaglio. Per rinnovare non dovremo fare altro che entrare sul nostro sito caimilano.org e qui dalla home page selezionare il menu attivazione profilo online oppure da iscrizioni e rinnovi, rinnovo online. Da questa pagina seguiremo il link che ci porterà sulla pagina di MyKai. Abbiamo già le credenziali di accesso, non dovremo fare altro che cliccare su Entra e a questo punto loggarci con username e password. Entreremo quindi nel nostro profilo socio. A questo punto si aprirà la pagina di Benvenuto dove sono illustrate tutte le funzionalità che poi ispezioneremo meglio dai miei dati, le mie preferenze, naturalmente il rinnovo online. Se ci sono delle assicurazioni che sono state sottoscritte, si vedranno. Se si tratta di un socio con carica, i soluzionari saranno indicate, così come se il socio è qualificato o titolato come istruttore, per esempio. Inoltre potremo sempre da questa pagina scaricare il nostro certificato di iscrizione. Dal menu I miei dati potremo aggiornare o modificare la mail di riferimento e il numero di telefono. Un appunto importante, la mail qui modificata non è la mail di accesso al profilo online, quella resterà sempre la medesima e non sarà modificata. Potremo quindi entrare nel menu le mie preferenze privacy, naturalmente le potremo modificare e aggiornare. È indicato l'argomento e i vari menu di scelta. Dovremmo solo cliccare sul menu indicato per aprire i sottomenu con scelta. A quel punto entrati nei sottomenu con scelta potremo modificare e aggiornare le nostre preferenze, accettandole oppure non accettandole. Altro menu che potremo vedere è quello del nucleo familiare. Quindi potremo vedere qual è il socio ordinario nel nucleo, eventuali soci familiari aggregati e se ci fossero anche soci giovani sempre afferenti a quel nucleo. E poi finalmente possiamo entrare nella nostra funzionalità di rinnovo. Potremo scegliere poi se fare l'invio del bollino al proprio domicilio oppure ritirarlo in sede. Il rinnovo sarà quindi immediato e il certificato di iscrizione sarà subito scaricabile. Una volta effettuato il rinnovo potremo effettuare la scelta per il rinvio del bollino, come dicevo prima, e poi il pagamento con PayPal. A questo punto si aprirà la schermata di PayPal. Non ci soffermeremo tanto su come fare il rinnovo, il pagamento con PayPal, ma con carta di credito e si farà selezionando la voce specifica. A quel punto verranno inseriti tutti i dati relative alla carta di credito, al tipo di carta, se una mastercard, una visa, il numero e così via, e il rinnovo sarà effettuato. A questo punto è completato. Il bollino verrà, secondo la scelta, spedito a casa o ritirato in sede e il certificato immediatamente scaricabile dal proprio profilo online. Ne approfittiamo alla fine di questa guida per ricordare poi come la sezione di Milano sia un riferimento cittadino per la frequentazione della montagna e persegue questo scopo attraverso le nostre scuole e attraverso i nostri gruppi e commissioni che organizzano gite, giornaliere, trekking, settimane bianche, che sono un po' per tutti perché si va dall'alpinismo giovanile fino al gruppo Signores. E infine vi ricordiamo come la nostra sezione valorizzi e presidi il territorio con i suoi sedici rifugi alpini e bivacchi di proprietà che sono presenti su tutto l'arco alpino, dal Monte Bianco fino all'Alto Adige. Grazie.